possiamo fare un piccolo test per vedere non c'è problema non c'è problema fabbri qual è il monte più alto d'italia monte bianco monte bianco chi ti ha suggerito chi ti ha suggerito nessuno nessuno ci hai pensato così tanto a dimmi qual è la vetta più alta d'italia è il capoluogo di regione del molise qual è molise non esiste non ho mai visto uno dei molise per esempio quindi finché non incontro la persona del molise per me non è reputata molise aveva parlato con una persona del molise dimmi la verità di che sto parlando se parlo di guerra fredda della guerra nel freezer quindi la russia contro la francia la russia contro la francia di che anni stiamo parlando su per giù del settecento del settecento me dici sette re di roma non so di roma è meravigliosa dimmi sette re di roma non so di roma faccio l'ultima domanda e chiudo che è strettamente attinente al tuo territorio quattro palloni d'oro italiani chissò baggio uno cannavaro due che possono aiutare adesso ti possono aiutare gli chiedi come si chiama perché non lo sa manco lui come si chiama perché tu chiedi a lui per essere sicuro e lui deve mettere più incertezza del piede cannavaro baggio cannavaro paolo rossi e rivera questi suoi quattro balloni d'oro grazie a tutti grazie a tutti